Ciao Torino! Sei carico? Abbastanza! Come va in questo periodo? Ma abbastanza, insomma tranquillo, insomma mi sono fatto l'operazione un mese fa e niente diciamo che le cose stanno andando per il meglio. L'alimentazione è sicuramente colta moltissimo, vero? Ah sì, sì, l'alimentazione è molto importante, diciamo che mangio più o meno sempre le stesse cose, insomma, non è che cambia tanto. Ma io la manca, perché la stai perdendo? La cioccolata me la mangio sempre, quindi no, no. Magari con le nocciole dentro, con una crema di nocciole. Sì, diciamo sì, diciamo che siamo in turno lì. Ah sì. Grazie! Grazie! Grazie a tutti